Un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Fatto in Italia con Oliviero Toscani. Buongiorno Oliviero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo qualche ritorno, spero che non si senta anche a casa. Allora, come sa chi ci segue, Fatto in Italia ogni settimana si occupa di questioni che riguardano l'urbanistica, il territorio e l'architettura. Un paio di settimane fa ci siamo occupati dello Stadio della Roma, una trasmissione che poi ha avuto anche degli strascichi nelle cronache locali, anche perché era uno dei temi caldi della campagna elettorale romana. Soprattutto il candidato sindaco Giacchetti ne aveva fatto un tema portante della propria candidatura. Poi sappiamo come è andata, avevamo promesso che avremmo fatto un'altra puntata riguardo allo stadio. Non l'abbiamo voluta fare domenica scorsa perché si votava e in pieno silenzio elettorale non ci andava di parlare di questo tema. Ma avevamo anche detto che avremmo fatto un lungo speciale sulla questione dello stadio. Ed eccoci qua, eccoci qua a farlo. Chiacchiereremo per un'ora e mezza qui su Radio Radicale della questione dello stadio della Roma. Potete anche vedere il video, oltre che da radioradicale.it, il video della trasmissione, quindi non siamo soltanto in audio, oltre che qui anche sui siti di Repubblica, Corriere dello Sport e Il Tempo. Quindi ci potrete seguire da vari dispositivi. Allora, io, Oliviero, io comincerei subito a introdurre i nostri ospiti se tu sei d'accordo. Forza, forza, sono importanti. Allora, sono importanti, sì. Allora, abbiamo con noi Paolo Berdini, che tra alcuni giorni si insedierà come assessore all'urbanistica di Roma, indicato da Virginia Raggi. Buongiorno, Berdini. Buongiorno. Abbiamo con noi Giovanni Caudo, ex assessore urbanista, professore, ex assessore della Giunta Marino, proprio assessore all'urbanistica. Buongiorno, Caudo. Buongiorno a voi. Abbiamo Emanuele Montini, che è il direttore nazionale, il coordinatore nazionale di Italia Nostra. Buongiorno, Montini. Buongiorno. E con noi Fernando Magliaro, che è giornalista del tempo, che abbiamo già avuto ospite la scorsa puntata sullo stadio e che tutto sa di questa questione. Buongiorno. Che poi Magliaro ci vuole dire che fa solo il cronista e che non è schierato, invece non è vero, ve lo dimostreremo anche in questa ora e mezza ve lo dimostreremo. Accettiamo la sfida. Esatto, esatto. Senti, Oliviero, io non so se tu vuoi partire dicendo qualcosa o entriamo subito nel dibattito. No, il dibattito non era partito dallo stadio, era partito così, su Roma e sui costi e poi è stato fuori questo stadio e io ho detto, ma c'è proprio bisogno di fare uno stadio. E da lì è saltato fuori tutta la storia dell'utilità di uno stadio, non tanto dei costi. No, no, certo, questa è una cosa diversa. E da lì è partito tutto l'interesse, se no non sarebbe, ci sarebbe stata l'interesse che c'è stato su questa roba qui. Sì, 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 certo. Siamo d'accordo a costruire lo stadio e poi c'era anche il problema della qualità di questa architettura nel caso, ma è una bella architettura o va bene per il Cisabalas di Nasvegan? Ecco, iniziamo subito in modo cauto. Questo è il mio, no, questa qua è la mia impressione personale. Va bene. Io sono una persona libera, non devo niente a nessuno, dico quello che penso, scusate se è così, ma io quell'architettura lì non la trovo particolarmente interessante, per di più se quella lì è quella che ha vinto il concorso per portare lo stadio a Roma, a parte un milione o un miliardo, appunto non è un concorso neanche, ma pur essendo un posto abbastanza pubblico lo stadio, pur essendo privato comunque pubblico, Cioè era io che mi posso metterli a fare la pubblica utilità, come voglio io perché devo chiedere comunque i permessi perché diventa pubblico, allora tutto il problema era scaturito così dicendo va bene fare un altro stadio, forse discutiamo di questo ma discutiamo anche del costo se va bene, io non è che posso fermare la costruzione dello stadio, però posso domandarmi se veramente con tutti i bisogni che ci sono, con tutte le necessità che ci sono, Con tutte le priorità che ci dovrebbero essere se è sempre lo stadio la cosa più importante che noi italiani dobbiamo fare Va bene, allora, sentite, questo stadio è ovviamente uno stadio che sarà costruito da delle società private, non sarà poi tecnicamente di proprietà della Roma, quali sono i punti salienti di questo stadio? In realtà, proprio contrari allo stadio, poi Toscani ha una posizione che ovviamente è la sua, le conosciamo le posizioni di Toscani, sono sempre uno spunto e un punto di vista originale e diverso, devo dire che nel panorama romano poche persone dicono che questo stadio non va fatto, i dubbi principali sono sul dove va fatto, soprattutto se quella zona di Tordivalle è adatta per fare lo stadio. E perché siamo qua a parlarne? Perché la giunta appena insediatisi a Roma, non la giunta perché non si è ancora insediata, il sindaco ha espresso dei dubbi su questo stadio, poi forse i toni si sono un po' smorzati negli ultimi giorni, però adesso cercheremo di capire dove andremo con questo stadio, perché questa Tordivalle, la zona che è stata indicata per fare lo stadio è stata apostrofata dall'assessore all'urbanistica del Comune di Roma ormai, Paolo Berdini, come deserto urbano. Tutta una serie di dubbi sono sorti e quindi oggi noi vogliamo parlare di ogni singolo aspetto. Montini, io voglio chiedere questo, intanto ci spieghi la posizione di Italia Nostra partendo anche dalle questioni idrogeologiche. Come Italia Nostra abbiamo sempre ragionato, sia come nazionale che come sezione romana, e in termini molto chiari, quando si parla di varianti urbanistiche. Cioè ogni volta che si parla di una variante per noi è una sconfitta, una sconfitta in primo luogo della politica, perché voglio dire un piano regolatore approvato soltanto nel 2008, che già fai una variante, anzi forse soltanto la prima, e quindi praticamente che già nel 2008 non potevi pensare che ci potessero essere degli stadi, e potevi individuarli dove, ma forse dove già ci stavano i trasporti, già dove non c'era un'area esondabile, già dove in fondo c'erano già delle infrastrutturazioni. E invece, come purtroppo è la storia di questa città da tanti anni, da parecchi decenni, e si fanno le scelte, la città va dove l'imprenditore vuole, non dove il pianificatore decide. Quindi di fronte a questa scelta, l'ennesima, ripeto, di variante urbanistica, su aree private, dove si porta un surplus particolarmente interessante sotto profilo economico, si parla, facendo due conti, 800 euro a metro quadro, si arriva a 260 milioni di euro di super valore, di plus valore per l'area, beh, allora abbiamo detto soltanto una cosa, cioè, ma questa operazione, questo regalo è per la città, è per i cittadini, è per i romanisti, per chi debba essere, Siamo andati a leggerlo e magari poi dopo, con maggior dettaglio, sentendo anche gli altri relatori, abbiamo visto che in fondo di tutta sta storia, lo stadio era solo il 14% di tutta la cubatura, qui la parte da Leone la fanno gli uffici, i centri commerciali, gli alberghi, quindi noi abbiamo fatto un ragione molto molto semplice, abbiamo detto, ma forse è più, tra virgolette, una scusa, quella di fare lo stadio, perché altrimenti la variante non si poteva avere. No, io mi volevo riallacciare, però ho sentito molte cose tutte interessanti, ne parliamo dal 29 maggio del 2014, e il 2014, quindi sono due anni precisi, più o meno, due anni e un mese, quindi che la città parla ampiamente di questo progetto, penso che sia il progetto più dibattuto, discusso, l'abbiamo immediatamente messo in trasparenza a tutti, mi ricordo che il primo articolo uscì su un messaggero, appunto, non in Italia nostra, ma in Italia Cambiente, quando l'abbiamo esposto alla casa della città, perché è giusto che sia così, è un progetto importante e deve essere ampiamente discusso e conosciuto. Sì, questo dobbiamo dire a un ordine vero, la Roma non era neanche obbligata, il Comune non era obbligato, neanche noi, assolutamente, questo ci mancherebbe. Noto che invece non c'è scandalo per tanti altri progetti puri, importanti che in questo momento si stanno discutendo questa città, però nessuno chiede che vengono presentati lo stadio, però appunto questo è un po' il perno della questione culturale che poneva Toscani, che a me sembra un po' il... Perché è... Già, tra l'altro, Olivero, questa è la tua trasmissione, quindi quando tu vuoi sei l'unico che è libero di interrompere. L'unico è stato un inizio. Sì, sì, lo so, lo so. La questione culturale è veramente il centro di questo tema, mi permetto di declinarla, Toscani, su questi due livelli. Intanto rispondendo alla domanda, perché è giusto, serve lo stadio per... Lo stadio inteso come un'ulteriore struttura pubblica legata alla pratica sportiva? No, perché non era neanche nel nostro programma urbanistico, non era nel piano regolatore generale. Però questa cosa nasce Toscani perché il calcio è cambiato nel mondo purtroppo, è cambiato in Europa, è cambiato in tutti i paesi, ed è arrivato un po' in ritardo anche da noi. Io ad esempio non sono né un tifoso, né sono particolarmente legato a queste vicende, però in virtù di questo vento, di come è cambiato il calcio, che è diventato business, non è diventata più una pratica, come dire, da campetto di testaccio, no? È diventato un affare, tra virgolette. Beh, da un po' di tempo. Da un po' di tempo. In Italia questa cosa si è tradotta con una norma, una norma che non è fatta da un governo reazionario, una norma che porta il nome di De Rio, una norma, tra l'altro, discussa, approvata nel 2013, nel dicembre 2013, in cui ci furono ampie discussioni, tra l'altro la Commissione Ambiente, c'era l'ex assessore Murassut, ci fu un parere specifico di Lega Ambiente, per esempio, che disse, che portò a casa, perché quella norma prevede che si possono fare tutte le utilizzazioni, tranne la parte residenziale. Perché dico questo? Perché molto spesso in questo dibattito sullo stadio sembra che il Comune ha deciso di costruire lo stadio di Testaccio per la Roma e poi ha regalato al privato un milione di metri. Non è così. Perché si omette che questa cosa è legittimata dal fatto che un privato, e questa è una profonda differenza rispetto al passato, non è che viene in Comune e chiede una variante, il Comune prono dice di sì. Noi, e questa è un'altra operazione culturale che penso sia giusto richiamare nel momento in cui parliamo di questa operazione, mentre ragionavamo, anzi, non era ancora arrivato lo stadio, è arrivato sei mesi dopo, però siamo la prima amministrazione comunale in tutta la storia recente di questa città che ha fatto quello che Italia Nostra chiedeva sempre. Noi abbiamo cancellato 161 ambiti di riserva, dove esattamente quello che diceva Italia Nostra succedeva. I privati hanno offerto ad Alemanno delle aree che Dio solo sa dove erano, Alemanno ne ha selezionati 161 con una commissione fatta di professionisti romani. Non mi pare che c'è stato scandalo quando si sono individuate 161 aree, 2300 ettari, 1900 in agroromano, che noi il 3 agosto del 2014 abbiamo cancellato. Di quelli che stanno qua dentro non c'è nessuno che ha scritto un articolo su questa cosa. Nessuno. Mentre noi facciamo l'operazione in cui cancelliamo la variante come metodo derogatorio di trasformare la città, quindi facciamo un'operazione culturale importante, poi abbiamo una norma dello Stato che invece ha un altro aspetto, che coglie un altro aspetto culturale su cui io posso non essere d'accordo, che però dice dal privato a un privato qualsiasi. E qui c'è l'altro aspetto. Perché quell'area e non un'altra? Ci sono tanti operatori nella città di Roma, tanti operatori immobiliari. La norma non è che dice all'operatore X di presentare un progetto, dice agli operatori. Un sacco di altri operatori potevano legittimamente, sulla base di quella norma, fare un accordo con la Roma e presentare un'altra area. Di carne al fuoco ne abbiamo tanta, perché qui sostanzialmente c'è una questione antropologica che io non banalizzerei, perché già l'altra volta questa cosa che dice Toscani del c'è ancora bisogno di uno stadio è stata presa come una vana, lo fai tu lo stadio, no, è allora che te ne frega. Quindi io non banalizzerei questa cosa che sta dicendo Toscani. Piste da sci a cortina. Siamo uguali. Allora vogliono fare delle nuove piste a cortina, vuol dire sboscare, tagliare gli alberi, tutto. Sì, sì, certo. Ci sono già le piste, no? Per i dieci giorni dei campionati del mondo che poi non ci sarà la neve, ci sarà tutta la neve artificiale. Insomma, dobbiamo renderci conto come funzionano veramente le cose. Cioè i soldi non servono, non sono sufficienti per devastare il mondo. Sì, sì, sì. Infatti questo è quello che vorrei che poi è la questione centrale del consumo del suolo, quella che pone anche Toscani con questa cosa. Però quindi le vorrei chiedere questo e poi di questa questione centrale. Perché di fatto lei Berdini ci sta dicendo, che poi possiamo girarci intorno finché vogliamo, però ci sta dicendo una cosa molto chiara, che tutte le infrastrutture o buona parte delle infrastrutture che servono per questo, per questa zona privata, le paga il pubblico. E certo. Io, prima di arrivare a rispondere alla domanda e al nodo che ha posto Toscani, che mi trova concordi, però ci voglio tornare, devo dire che sono venuto con grande piacere in studio perché c'è sempre da imparare. Io ho scoperto dal tempo che avevo preso un'ottima lezione da parte di un giornalista. Professore, non tocchi il microfono perché altrimenti ci... Un articolo molto simpatico, devo dire, proprio di altissima professionalità. Oggi addirittura, invece, scopro un altro pezzo della lezione. Dice il professor Caudo, io non sono professore, quindi dice il professor Caudo, io non lo sono, non mi pare che ci sia stato scandalo per le delibere di Alemanno. Forse era troppo impegnato all'università il professor Caudo perché noi abbiamo fatto qualcosa come due mesi di picchetto in Consiglio Comunale per battere quelle scelleratezze. Però, appunto, ognuno parla come vuole. Torniamo alla questione centrale che pone Toscano. È utile fare gli Stati? Li fanno in tutta Europa? Perché non li facciamo noi? Io accetto anche questa sfida. Sono contrario come lui perché credo che veramente avere nella città di Roma due Stati meravigliosi come quello dell'Olimpico e il Flaminio. Sul Flaminio dico soltanto che c'è stato un intervento che dice che è vicino all'essere pericolante. Quindi una città che ha due Stati, uno che funziona e l'altro che è pericolante, dà alla società sportiva Roma proprio sulla base di una legge riprendo Toscani. Non è detto che le leggi debbano essere utilizzate in questo modo insensato. Si potevano trovare altre strade se lo Stato avesse voluto. C'è forme di convenzione per dare incomodato d'uso gli Stati. Quindi avremmo raggiunto lo stesso, la stessa finalità della legge. Ma insomma, facciamo finta che non c'era altra soluzione. dobbiamo fare lo stadio. Benissimo. Lo dicevo l'altra volta, io rispetto molto le leggi dello Stato, io devo progettare uno stadio. Allora, solo in questa povera, disgraziata città che dobbiamo amministrare, arriva un privato che dice io voglio fare uno stadio. L'ha detto bene Montini. Insomma, lo stadio rappresenta il 5% dell'operazione. Dopodiché, voi capite che siccome quella zona, lo ripeto ancora, tutto maiuscola, è deserta dal punto di vista urbano, io devo portare una serie imponente di infrastrutture, cari signori del Comune, me le pagate in cubatura. Ma mi dite in quale altra città dell'Europa civile si deve dare il regalo a un privato un milione di metri cubi di cemento perché altrimenti lo stadio non funziona dal punto di vista economico. Ma scusate, che gliene importa all'amministrazione comunale di Roma se non funziona dal punto di vista economico uno stadio? Gli regalo le cubature e se devo costruire una nuova tramvia che faccio? Regalo le cubature a chi mi costruisce? Cioè, se si ragionasse sulla assurdità di questo assunto culturale, noi credo che faremmo tutti un passo indietro, dice vabbè, abbiamo sbagliato, ci siamo sbagliati e torniamo indietro. Però io qui voglio, e veramente ho finito, voglio allargarlo un attimo il ragionamento su questa città perché qui stiamo facendo il videogioco, stiamo alla seconda fase del... Allora, l'incubo di Roma non è un videogioco, ve lo dico qual è l'incubo. Noi abbiamo 13,5 miliardi di deficit accumulati dalla urbanistica insensata come questa che stiamo discutendo. che io faccio finta che regalo qualcosa alla città ma la città costa. Questi sono 13,5 che il commissario governativo ha certificato davanti al Parlamento quindi siamo in seduta solenne. Dopodiché ci sono 2 miliardi accumulati per una città che non ce la fa più, accumulati durante i tre anni del sindaco Marino, 2 miliardi perché noi dobbiamo portare i servizi in questa città che è esplosa in tutte le parti di cui ovviamente Marino non c'aveva colpa e lo dico perché se non qua abbiamo suscettibilità che vengono toccate. Dopodiché ci stanno 3,5 come minimo miliardi di fondi derivati accesi dalla precedente giunta di Alemanno cioè dal sindaco Veltroni di cui non si sa nulla. Quindi noi abbiamo una città che in base ai parametri del governo Monti molto severi che condivido fino in fondo è fallita e noi stiamo parlando del videogioco questo è un incubo c'è la linea ferroviaria tra Roma e Ostia si ferma un giorno sì e un giorno no la linea di metropolitana che prendo io per andare a svolgere il mio lavoro passa con 8 minuti di frequenza nel momento di punta della sera quando torna a casa 7,7 e mezzo passa con 8 minuti questa è una città fallita e noi stiamo giocando con uno stadio che ci costerà 400 scusate io su questo sono stato sempre molto secco però lo devo argomentare qui non c'è soltanto il costo folle delle infrastrutture che noi costruiamo a scapito di un altro pezzo di città dove vivono 400 mila persone faccio un esempio insomma la zona di Romanina su una zona dove non vive nessuno spendiamo 400 milioni di opere pubbliche scusate quando è finita sta fiera appunto il videogioco chi le gestisce queste opere chi fa la manutenzione del ponte sul Tevere chi fa la manutenzione della pista ciclabile noi ci stiamo indebitando per questa follia dell'urbanistica scellerata la vogliamo chiudere sta sta finestrella oppure dobbiamo far fallire una città cioè tutti i cittadini romani scusate dico l'ultima veramente quando c'è stato la stretta economica sul il sindaco marino il sindaco marino insomma sulla base di un ragionamento che immagino sarà stato molto sofferto ha tagliato le linee di trasporto pubblico che vanno in alcune zone ex abusive ma legittimate anche questo sulla base delle leggi che stanno intorno al divino amore è questa la città che vogliamo cioè facciamo lo stadio dell'Ucichio con appunto il ciambellone dell'architetto dopodiché togliamo i servizi nel 99% della popolazione romana se è questo io non sono d'accordo ovviamente siccome rispetto le leggi guarderò fino in fondo nel caso che venissi appunto nominato come assessore le carte che ovviamente conosco per grandi linee insomma non sono un pozzo di scienza dopodiché però l'atteggiamento che deve avere una persona responsabile rispetto a questa città è che per non farla fallire dobbiamo chiudere il rubinetto della mala urbanistica che ha portato a fondo questa città senta le chiedo una le faccio ancora una domanda poi continuiamo so che voi volete rispondere e permetteremo a tutti quanti di rispondere le voglio però fare una domanda una domanda molto secca lei alla quale le chiedo proprio di rispondermi con un sì o con un no lei cercherà quindi di usare ogni mezzo consentito dalla legge ovviamente per fermare questo progetto ma certo per le cose che ho detto ma scusate in una città che è fallita che ha 20 miliardi di deficit noi spendiamo allora facciamo il referendum scusa facciamo poniamola bene le domande a cittadinanza volete spendere 400 ammesso che siano 400 sono il doppio comunque volete spendere scusate lo posso dire cioè io siccome vivo nella zona di San Paolo da una vita c'è stato un periodo veramente drammatico quando la linea non aveva lo stesso binario quella di Ostia non arrivava a piramide ma entrava nella tratta della metropolitana c'erano disservizi anche di 20 minuti dopodiché abbiamo costruito due binari nuovi che dalla Magliana vanno lì adesso ci stanno proponendo quelli del videogioco che facciamo uno sfioccamento della metropolitana verso Ostia così abbiamo l'intersezione che abbiamo tolto 20 anni fa questa è la Roma del futuro qual era la domanda? se userà ogni suo mezzo di disposizione per fermare lo Stato io finalmente ho capito perché io non conoscevo Massimiliano Tonelli adesso avete mandato una piccola slide del suo volto e non riuscivo a capire perché mai avesse avuto questi insomma questi piccoli attacchi di bile perché mi ha pubblicato su un sito insomma io ovviamente non denuncio nessuno non come altri però veramente ho trovato un livore è quello che dice Oliviero Toscani cioè accusare una persona come me di ideologia credo che uno ha bevuto troppi troppi aperitivi ma insomma lasciamoglielo adesso però ho capito perché il fatto che il 70% dei città di 67 2 mi pare no abbiano espresso la convinzione che questa città è stata portata al disastro e abbiano punito chi ha portato il disastro alla città certo che l'ha messo di cattivo umore quindi capisco perché c'è questa veramente incredibile violenza nei miei confronti adesso ho capito gli chiedo soltanto di Tonnelli però sosteneva la raggi sì se può beh ma se è sbagliato evidentemente non sapendo sta cosa adesso è ancora più livido ecco io lo pregherei ammesso che sappia il significato delle parole di collocarla bene io non ho ideologie sono veramente unanimemente conosciuto come una persona di assoluta indipendenza quindi essere accusato di ideologia come fa parte del Circo Togni fa parte del videogioco fa parte di questo mondo che deve sparire da questa città io credo e riprendo ancora una volta un'indicazione di Toscani che è perfetta che questa città debba avere il coraggio civile di ridiventare capitale d'Italia noi non possiamo pensare che una capitale d'Italia ha ragionato negli ultimi 15 giorni della campagna elettorale in modo forzennato stadio sì stadio no eccetera cioè questo è svilire il respiro che una capitale debba avere chiudo solo dicendo che io non sono contrario assolutamente alla costruzione dello stadio sono contrario a quella localizzazione e credo che noi faremo un grande appello agli imprenditori seri che questa città ha e che conosco tutti personalmente di cercare di trovare alternative a quella scellerata localizzazione che porterà soltanto danni alla nostra povera città indebitata e fallita di cercare di cercare Grazie a tutti.